Domani i mercati saranno riaperti. Abbiamo accelerato i tempi con un lavoro straordinario, intenso e ringrazio tutti gli operatori che hanno collaborato per arrivare a questo risultato. In primis l'assessore alla nuona, l'avvocato Sonia Ruscillo e tutti gli operatori, compresi anche le associazioni che hanno dato la loro disponibilità per ottemperare a questo piano di anti-assembramento che saranno attivi dei servizi che andranno a regolamentare l'entrata e l'uscita nei mercati grazie all'ausilio delle associazioni di protezione civile. Certamente rimarrà il dispositivo del DPCM dove il sabato nel mercato non sarà consentita la vendita dei punti di vendita di abbigliamenti o altro genere che non siano riconducibili alla vendita di generi alimentari. Questo vale anche per le medie strutture, quindi tutti i supermercati saranno aperti al di là della loro entità di media o piccola struttura perché è consentito la vendita solo esclusiva di generi alimentari. Significa che nelle medie strutture non si possono vendere altri prodotti che non sono riconducibili a prodotti di generi alimentari. La questione è stata chiarita, l'altra questione che rimane il punto essenziale del DPCM è l'invito di restare a casa, di uscire solamente per casi di necessità perché la vostra salute è la salvaguardia della salute pubblica.